In una macchina da scrivere, eh? Il titolo a lettera 22 Vabbè Vediamo cosa stai È guarito dalla sua mania di protagonismo? Sì, assolutamente sì E allora perché è tu? Perché soffro di cleptomania Ho capito Dottore, guarda il controllo fuori E poi, mi sa che anche questo si assurde E il fine credo che anche questo si è qua Vuoi un po' di caffè? No, no, no Ha ancora problemi con l'inchiostro rosso? No No, mi chiamo Alfa e non mi faccio più l'inchiostro rosso E con la bottiglietta? Quale bottiglietta? Sì, dottore Per quella ora non mi sono proprio tagliato E pensare che all'inizio lavoravo nel quarto un liceo Sì, c'è le amo Sì, c'è le Jay E l'Aletia dov'è? Ah, scusa È duro il lavoro più Ma no Capisce? Ah, è da qua? Sì, certo Ho una nuova terapia per lei Ma è? Quale? La musicoterapia? Così? Cosa che viene in mea? Ah! No!